Luisa Di Simone e benvenuta grazie, sono emozionatissima, scusate grazie di cuore lo dedico a tutta la troupe a Marco, al nostro produttore esecutivo a tutti quelli che hanno profuso tutto lo sforzo necessario a realizzare il corto grazie di cuore grazie a tutti grazie mille e complimenti Buon distrega lezione speciale per il Montazio benvenuto e complimenti grazie grazie mille ci mancherebbe grazie a tutti perché il vostro modulo era fatto bene anche il vostro montaggio era puntuale mi viene questa parola qua perché il montaggio è il montamento i stacchi di montaggio sono il montamento quindi il vostro è esattamente puntuale pulito, perfetto grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille